Dal puro divertimento all'esplorazione estrema, il tuo riferimento è Eligio Romano Ferrino Store, via Piano Dardine 15 a Tripanta. Forse dobbiamo cominciare a ragionare su modelli e strumenti diversi per affrontare le crisi aziendali. Quelli che vengono utilizzati approdano al 99% dei casi allo stesso identico risultato. Quelle aziende che hanno fermato la produzione e messo in libertà i dipendenti non riaprono. Nel frattempo passano gli anni che si consumano su tavoli provinciali, regionali, nazionali, da cui l'unico ragno che si riesce a cavare dal buco è garantire ai lavoratori la copertura degli ammortizzatori sociali per un tempo variabile e comunque non illimitato. Nel prossimo mese di luglio saranno trascorsi otto anni dalla chiusura dell'Irisbus e l'azienda di Valle Ufita di fatto non ha riaperto e di nuovo c'è che ha cambiato soltanto il nome. Nel frattempo si sono succeduti sei governi diversi e sette diversi ministri competenti. Se questo accade per una grande azienda che per di più incrocia politiche industriali considerate di interesse nazionale, il polo unico per la costruzione degli autobus in Italia, c'è da essere molto preoccupati per usare un eufemismo per il futuro che potrà essere riservato ai 117 lavoratori della Novo Legno. E però proprio i casi della ex Irisbus e della Novo Legno sollecitano e fin anche suggeriscono un modello forse più attendibile per misurarsi con le crisi aziendali. Prima di lasciare per anni Fiat aveva campato di cassa integrazione, commesse e promesse dai vari piani autobus che non venivano mantenute. Un anno e mezzo prima di chiudere i cancelli, l'11 luglio del 2011, Fiat aveva persino provato a risollevare le sorti produttive con un nuovo piano, anche penalizzante per i lavoratori e che però dovendo bere o affogare, venne anche se a malincore approvato. Non bastò neanche quello. L'azienda di Arcella boccheggiava da almeno 4 anni importanti fette di mercato perdute per vicissitudini internazionali, l'embargo alla Russia, l'ingresso mancato sui mercati del Nord Africa e delle primavere arabe per la concorrenza dei cartonati. Una crisi così evidente rispetto alla quale i lavoratori della Novo Legno sono arrivati ad accettare di guadagnare fino al 50% dello stipendio. Voglio dire che i tavoli, la mobilitazione, il confronto con le istituzioni locali, regionali e nazionali e soprattutto con i governi devono funzionare quando le aziende sono ancora aperte e non, come spesso accade, per conquistare un breve e illusorio periodo di tregua. Se si affrontassero subito e alla radice forse non ci risparmieremmo del tutto le dolorose vie crucis dei lavoratori e i pellegrinaggi ministeriali ma avremmo tentato di cambiare verso a conclusioni che irrimediabilmente si dimostrano già scritte.